ciao a tutti amici del toro benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostra mi toro tendenze energetiche affettive per la seconda parte di ottobre 2023 e abbiamo la carta della forza amici del toro sento sempre questa carta molto collegata con il potere personale è una carta di forte coraggio ma è anche una carta di scelta andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi io vi ricordo come sempre che le letture sono generiche quindi è facile che non risuoni tutto se non risuona se nulla se voleste completare il messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente segno lunare o venere per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida la trovate sotto nella descrizione del video è sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale allora andiamo ok 10 di bastoni ready denari l'appeso un 2 di denari 8 di denari e volata adesso la recupero 6 di coppe allora quella che volata è un 4 di coppe allora fanciulli partiamo con un 10 di bastoni come se ci fosse stato qualche cosa che vi siete lasciati alle spalle 10 di bastoni sempre una carta che ci indica la fine di un ciclo in quanto è un 10 c'è un bellissimo re di denari devo dire che potrebbe essere una persona nuova nel caso siate single potrebbe essere un padre lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi potrebbe anche essere la vostra persona di interesse se avete già qualcuno in testa c'è anche la carta dell'appeso però come la sensazione che abbiate bisogno di prendervi un tempo di riflettere abbiate bisogno di fare un po il punto della situazione andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta partiamo del 10 di bastoni abbiamo una regina di spade e un altro 10 10 di spade qui o si è lasciata indietro una persona o si è lasciata indietro un certo tipo di attitudine si deve chiudere con un qualche ciclo di tipo mentale probabilmente si devono lasciare indietro certe idee certi meccanismi di controllo si certe sofferenze della mente mi verrebbe da dire andiamo a vedere questo re di denari la luna morte fante di bastoni e la forza al contrario allora per qualcuno questo re di pentacoli fa riferimento una persona che ritorna dal passato con la quale magari avevate già chiuso magari è proprio una persona con la quale avete chiuso di cui ci parla questo 10 di bastoni però è anche vero che essendoci la morte al contrario è come se ci fosse qualcosa che fa fatica a essere lasciati indietro o come la sensazione che non abbiate il coraggio perché anche qui di nuovo c'è la forza di fare questo tipo di passaggio ci sono delle cose nascoste probabilmente visto che abbiamo comunque anche la carta della luna come scusate come se non si volesse tagliare con un certo ciclo con anche un sogno magari è perché per qualcuno la luna fa riferimento a un sogno che si aveva magari questa persona potrebbe anche essere un capo per qualcuno ve lo dico perché qui abbiamo lotto di pentacoli quindi magari avete il sogno nel cassetto di conquistare il capo ipotesi ma non avete il coraggio vi manca l'iniziativa vi manca la spinta devo vedere l'appeso imperatore e sette di spade qui sento che qualcuno vi ha raccontato delle bugie e questo appeso è qui proprio perché vi come se avessi bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista la carta dell'appeso essendo appeso a testa in giù vede le cose proprio da un altro punto di vista e come vedere il lato b della medaglia ho anche la sensazione che in questa relazione ragazzi potrebbero esserci diversi alti e bassi perché da un lato la persona in sé se non re di pentacoli può essere una persona che ha un certo tipo di ruolo lavorativo sociale un certo tipo di potere personale però in qualche modo nella relazione con voi manca di un certo tipo di solidità è come se mancasse la costanza probabilmente può essere che sia una questione una relazione intermittenza piuttosto che dismessa parecchio tempo fa perché ho come l'idea che perché avete 22 carte di sofferenza la morte 10 spade o come la sensazione che ancora dobbiate purgare questo momento di tristezza ecco devo vedere il 2 di denari abbiamo la regina di bastoni e un 5 di coppe dunque il 2 di denari è una carta che in effetti parla di alti e bassi però qui ho come la sensazione che normalmente sono alti e bassi economici proprio la sensazione che in realtà siano i motivi deve essere successo qualche cosa secondo me se conoscete già questa persona o comunque anche se non la conoscete nel vostro passato deve essere successo qualche cosa che vi porta a riflettere sul è giusto perdonare queste bugie questo atteggiamento questo trattamento oppure potrei pentirmene vi dico che per qualcuno nella regina di bastoni potrebbe essere un'altra persona che si mette in mezzo non necessariamente livello romantico può anche essere semplicemente magari un amico un amico che consiglia e che vi fa vedere diciamo il lato b della medaglia vi fa un po al lavoro dell'appeso e ma vedere questo 8 di bastoni tentacoli giudizio e 7 di pentacoli allora con la scusa che c'è la carta del lavoro come vi dicevo prima il radi denari potrebbe fare riferimento a una figura che è presente nel vostro intorno lavorativo può anche essere un collaboratore ipotesi però comunque qualche cosa che ha a che fare con il lavoro però allora o qui è come se aveste una presa di consapevolezza per quello che riguarda una certa dinamica comportamentale può essere che qualcuno riceve una telefonata di lavoro una telefonata dove c'è da prestare il proprio aiuto nella quotidianità magari c'è non lo so può anche essere un familiare che ha bisogno di voi per 15 giorni qualche notizia qualche presa di consapevolezza qualche tipo di risveglio arriverà dal quotidiano e qui avete anche un set di pentacoli che è una carta di attesa è come se vi dicessero non potete far che aspettare occuparvi dei dettagli occuparvi meticolosamente di quello che sono le piccole cose la comunicazione mi viene da dire perché parte del significato della regina di bastoni è con lei che ammalia le persone con le parole è sempre una questione di comunicazione e qui abbiamo l'angelo che sono le trombe ma per dire ora di svegliarsi la sveglia il mattino c'è qualcosa con la comunicazione e vi dico così perché anche qui c'è un set di spade quindi qualche cosa a livello di verbale viene omesso viene non detto vediamo vedere 4 di coppe 10 di coppa il contrario il diavolo ragazzi io credo che in questo periodo c'è il fatto che vi interessi questa persona è perché potrebbe darvi un certo tipo di stabilità che è quella cui voi puntate però qui è come se ci fosse una difficoltà a fare un passo a fare un movimento a prendere una scelta a segnare un prima e un dopo ma arriverà alla fine di ottobre dove o sì o sì un certo tipo di comunicazione o arriva o la farete voi vi dico questo perché con questo 4 di coppe vi sento parecchio focalizzati su quello che non avete probabilmente non avete una famiglia unità o non avete proprio una famiglia e questo vi crea un condizionamento nel ego soprattutto se avete già una certa età e vi identificate con la società solo nel caso in cui abbiate una famiglia questo può diventare un vincolo un condizionamento molto forte per voi cioè il fatto di di non sentirvi uguale agli altri perché in questo momento non avete una famiglia può essere un condizionamento egoico che vi porta essere un po tristi che vi porta a vedere un po negativo insomma abbiamo un 6 di coppe di nuovo una carta che mi parla di passato esattamente come la luna il giudizio è quindi qui per qualcuno veramente sento il fatto che torna una persona e voi siete lì che dite ok lo perdono o la perdono o no la comunicazione può migliorare oppure no c'è qualche speranza di creare una relazione migliore oppure no e c'è anche questo dubbio diciamo così del sì però intanto non ho nessuno adesso perché non provarci però è una cosa con la sua tossicità ecco diciamo così andiamo a vedere se di coppe 8 di bastoni di nuovo una carta di comunicazione ragazzi dieci di denari e regina di denari allora devo dirvi che comunque la lettura finisce bene ci sono delle belle carte in fondo sento che c'è una questione a livello pratico giornaliero quotidiano che si concretizza che è un po quello che volevate voi no però alla fine della fiera o come la sensazione è che manchi tutta la parte romantica manchi sta mancando la parte delle emozioni con questa persona o in questa situazione anche se una persona nuova che andrete a conoscere perché magari entra nella seconda settimana di scusate nella terza settimana di ottobre però come la sensazione che si magari dopo questa vostra comunicazione dopo questa c'è un qualche cosa in più a livello pratico ma è come se non ci fosse la connessione a livello emotivo che voi sognate tenete sempre presente che quando c'è un 6 di coppe si parla di quell'amore romantico che si viveva durante l'infanzia l'amore da sogno quello che non esiste fondamentalmente quello dove è sempre tutto rose e fiori prima vedere un altro oracolo vediamo cosa riesco a dire qui comunque ragazzi si tratterà di trovare il coraggio nel fare un passo può essere o appunto perdonare questa persona che ritorna dal passato se pensate che ci sia ancora se pensate che valga ancora la pena se pensate che il dialogo possa cambiare oppure oppure si ripeto potrebbe essere una persona nuova guardate qui o lascia che parla di separazione di interrompere la dinamica qui c'è il risveglio come se riusciste a capire qual è la dinamica ok parla di è una carta un po da diavolo effettivamente e da morte perché parla di come si dice trattamento silenzioso il trattamento del silenzio sapete quando vi voi parlate con qualcuno questa persona non vi risponde ignora quale trattamento del silenzio è un come si dice un aggressivo passivo un comportamento aggressivo passivo ok ed è una tecnica di manipolazione anche quella tra l'altro e poi abbiamo la tazza di caffè che vi dice di di un incontro parla anche questo di una conversazione di assaporare il momento è come se ci dovesse essere un re incontro diciamo così per chiarire delle cose starà voi decidere se riprendere o no questa persona o questa situazione nella vostra vita tenete presente che comunque l'appagamento emotivo non c'è è più un vincolo un condizionamento una questione di lussuria una questione di controllo una cosa ego e anche se poi le cose alla fine del periodo vedo che qualche cosa in più si concretizza però ragazzi vi resta sempre un vuoto dentro perché perché voi avete in testa l'amore romantico ma io sono sicura che questa persona non è in grado di darvelo perché perché ci sono queste cioè questo sette di bastoni di spade ci sono delle bugie ci sono delle proiezioni c'è parecchio egoismo da parte di questa persona ma vedere un'ultimo messaggio bell'occhio osservate lascia andare le ombre del passato e cerco di guardare una persona con gli occhi vedendo questa persona vedendo qualcuno come se fosse la prima volta che la vedo fondamentalmente con gli occhi dell'amore è un po come dare una seconda scelta no seconda possibilità scusate non scelta bene amici del toro questo è quello che avevo per voi spero che in qualche modo siate riusciti ad applicare la lettura alla vostra realtà che abbia potuto darvi degli spunti di riflessione se sì fatemelo sapere con un like con un commento se avete piacere potete iscrivervi condividere o abbonarvi nella fascia dell'abbonamento parlo di temi di metafisica su come lavorare l'energia mentre per quello che riguarda il percorso individuale lavoro sulle credenze limitanti ed è un percorso cucito sulla persona però è una parte di tutto quello che tratta nella sezione degli abbonamenti quindi potete anche andare nella playlist se avete piacere potete curiosare si vedono i titoli dei video almeno vi fate un'idea dei temi trattati detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao